Oh, ma mortacci tua, ma chi cazzo sei? Ma in che anno siamo? Nel 2020 2020, aprile col virus o mangio coi zombie? Come i zombie? Non riesco a capire perché cazzo mi apri ogni 5 minuti Ma hai fumato? No Ha gli occhi rossissimi E va bene, ma tu stai cavalcando un liocorno, mica te lo faccio notare Per me acqua, grazie 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 Per me vino, ca Mentre il mondo combatteva, io resistevo, chiuso in cantina solo Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino Ed è un sito quando è finita la guerra? No, quando è finito il vino Con la cartegginica siete tutti quanti bravi a palleggiare E ora però ci dovete far vedere come vi pulite il culo con il pallone Allora, grazie a me Dimmi cosa devo fare Managgia Per me acqua, grazie a me A proposito del vicino È venuto stamattina a chiedere una sega Eh, tu l'hai trovata Sta appesa in garage Eh no, eh Non l'hai trovata Ma che figure devo fare col vicino Gli attrezzi stanno in garage Gli attrezzi Gli attrezzi Gli attrezzi Gli attrezzi Gli attrezzi Gli attrezzi Grazie a tutti.